Il territorio della provincia Barletta-Andrea Trani, caratterizzato da un tessuto economico produttivo in ripresa, è appetibile ai fini dell'infiltrazione mafiosa. A dirlo è la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia che fa riferimento al periodo di gennaio-giugno 2019. La riabbatta e costituisce, a detta degli specialisti, il punto di incontro tra organizzazioni criminali di diversa estrazione geografica, società foggiana, malavita cerignolana e criminalità organizzata barese. Diventa territorio cerniera dunque anche nella diversificazione dei traffici illeciti, che partono dai reati predatori fino alle estorsioni, all'usura, alla contraffazione, contrabbando e riciclaggio, fino al mercato degli stupefacenti. Nonostante le influenze esterne, i gruppi criminali del posto intanto conservano una propria autonomia operativa. Nel corso del semestre, preso in esame, si sono verificati numerosi fatti di sangue. Due omicidi a Barletta, uno il 15 gennaio e i danni del boss del clan Lattanzio Lombardi Marchisella, e poi il 25 luglio e i danni di un elemento del clan Greener Capogna. Sempre lo stesso gruppo criminale è stato colpito con l'omicidio del capo clan il 24 giugno ad Andrea. Il 20 gennaio ricordiamo l'omicidio del capo del clan Miccoli De Rosa Trenitapoli, e nella stessa città il 14 aprile ad essere colpito mortalmente fu il capo del clan Carbone Gallone. Tutti i fatti di sangue sono legati soprattutto alla definizione o ridefinizione della gestione del locale mercato degli stupefacenti, per ampliare la propria influenza o per la commissione di reati predatori, come gli assalti agli sportelli Bancomat, assalti a portavalori o nei furti di autovetture, per cui spesso operano in sinergia con gruppi criminali specializzati di Cerignola, Andrea e Bitonto. Degna di attenzione l'ultimo è la filiazione di un pregiudicato di rilievo nella criminalità andriese e luogotenente del clan Greener al clan Nardino di San Severo, che opera con la malavita cerignolana e con i sinesi Francavilla della società foggiana, con esponenti della Camorra e con la criminalità albanese.